Il maestro Bottai Roberto alla Casina della Betone. Signore e signori, buona visione. Taini Roberto sta insegnando un'arte magica, l'arte dei nostri avi. Si parte dal fondo, questo è l'inizio di un fondo. Come va? 4 e 4. Sandro è più difficile prenderlo, perché anche se fai una croce così fatta con l'olmo, se l'olmo lo sbucci, è sempre tranquillo. Qui ci vuole la pancia, chi non ce l'ha la pancia, ci diamo di pancia, perché è importante premere sulla pancia per stringere il lavoro. Quello davanti lo faccio di dietro e quello dietro lo faccio davanti. E all'incontrario comunque facciamo finta che sia buono. Quello dietro lo faccio davanti, quello avanti lo faccio dietro. Allora io ho fatto il cassino. Allora ora che avete visto si cambia il materiale per la visione. Come va? Perché non è bagnato abbastanza. Sì, forse sì, forse sì. Lo tolgo allora questo qua. E anche un po' più morbido. Pancia, chi non ce l'ha la pancia, ci diamo di pancia. Perché è importante premere sulla pancia per stringere il lavoro. Quello davanti lo faccio di dietro e quello dietro lo faccio davanti. E all'incontrario comunque facciamo finta che sia buono. Quello dietro lo faccio davanti, quello davanti lo faccio dietro. Allora io ho fatto un cassino. Allora questo va bene. Allora ora si cambia, ora che avete visto si cambia il materiale per la visione. Come va? Perché non è bagnato abbastanza. Sì, forse sì. Forse sì, forse sì. Forse sì, forse sì. Allora si allarga. Sì, sì. Allora la cosa... Quello dietro lo passi davanti, quello dietro lo passi davanti, quello davanti lo passi dietro. Sto lo apponendo. Poi vai qua. Fatto un giro, poi si allarga. Ah, vai, ti metti e te ce l'hai ancora. C'è ancora questo. Sì, sì. Vai, questo passi dietro. Fatto un giro e poi si allargano. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.